E il Barret quanto faceva in testa? Il Barret faceva 365 facceva una volta Che tanto tempo fa Eh sì Dove a te arriviamo? Un 400 sempre ha fatto Andiamo insieme al tour, dai Stava avanti un po' Eh vabbè, mi sembra di dire a lui questa roba qua che sennò poi lo tiziamo Allora il discorso pure lì che io che erano i cittadini io non faccio fatica per la che parte è il taglio, è il taglio è il taglio, è il taglio, è il taglio è il taglio, è il taglio è il taglio, è il taglio è il taglio, è il taglio, è il taglio è un po' più abbassata quindi certe cose, magari uno le 24 giorni i fiorellini, diceva, corre fuori che c'era a moto dicendo, ma cazzo è la moto, non la vedeva in mezzo i fiorellini, lui non c'erano i fiorellini eeeh, io ci posso fare stavolta c'è meno gente c'è nessuno però, praticamente questo è il discorso che c'è cinque è bella, però c'è anche dei dettagli ed è un casino stavolta la città che sto del merda vabbè, vanti perchè stanno torando dentro ci son bott ci sono tutti botti, vero aspetta c'è uno così c'è uno di là c'è uno di là qua, che sta facendo questo? cosa fa il Dio? cosa che fa questo? grazie aspetta aspetta tranquillo 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 vi forno io vi forno di mai dopo ho fatto lo tutto rimangere tutte di torno ma guarda che pure questo scudo se vuoi tranquillo anche se è fatto fare una missione mi ha fatto fare sì c'è tra misce di compleanno non hai fatto ancora io e no dimenticata di farlo vabbè sono facilissimi però ci vuole ancora quella dei regali del merda non si trova aiuto dmr che merda è pure sbagliato non c'è più niente ma andiamo al bunker non è in figa però un po' tardi non lo va a dritto non prendiamo un cavolo eh vabbè ma alla fine che si vuole dire alcuno torsiamo ai bossaggi per dire alla fine è anche un po' situazionale questa volta magari c'ha ragionato nooo parca p***a guarda capo specialmente il nobiz in molti ci fatti no se niente vuoi sto schifo dammi il po' mamma mia raga ma che cazzo sta uccidendo a sto cavolo ma davvero ma che fanno le queste sirene nooo vabbè lo sto perso ma lo stava rubando li hanno beccati stacca stacca tutto stacca 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 ce l'ho trociato stacca 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 corri la finanza oh merda ma se mai li botto il buonotano pure perché sta nuotando di su ma che sparo quello che si è quello che si è si è gridato così ti sei fatto insidere dalle guardie eh ma continuano a sparare non basta no che cosa è un gioco questa misa di effetto è merda con il mirino ancora oh chi mi spara da mi spara pure da noiii ma fai ti ha il testo macchia dopo ti ho visto te che tutti andranno a passare le botte nooo non me lo ricorderò eeeh come si trovano i batti regali è vero i batti regali come si trovano a fare la missione si trovano in giro a cazzo ma che missione sarebbe eeeh eeeh e quanti se ne devono prendere tre tre devi anche mangiare ma ce lo andiamo da sto posto che c'è un casino questo cazzo no vabbè ci sono sette volte qua mi prendo il cecchino va via via le colpi ti lascio mi pare che tu hai quello epico ma io non ce lo paro via diciamo ho un colpo cecchino me ne dai un po' ci sono quelle eh ci sono seto lasciati lì io vado ho ragione il gengar stop fine punto capito ho ragione io basta si ha ragione il gengar è così è così neandro che hai il botter kill ho due perchè due botte e c'era pezzo non c'è cosa qua secondo te oh chi è poi il totem ti ha chiesto se io vado la voce è un po' non c'era va bene tu oh guarda lì come però guarda lì come aspetta l'ultimo boxes Aspett Aspett Guarda Guarda Non colpa la te Ho giusto tutto io Raga Lo sei La missione non è di aprire i regali Ma è di raccoglierli Eh ma c'è scritto comunque E allora fammelo raccogli anche a me A me non me lo conta E non lo so Eccoli Non sono bot forse Non lo so Dai Bianco Atterrato No ma io Questi video non sono bot Non sono tanto forti però eh L'ho rovinato L'ho fatto L'ha battuto eh Un altro Ma andiamo certo che devi fare Ma è figa Eccolo Rovinato eh Ah lo vediamo attraverso il coso Quello del coso poteva usare Guarda Guarda tutte le colonne avevano questi Ti ho Avete combattuto? Eh beh No non me ne ero accorto Ho fatto un casino Ho fatto una coglione Prova a raccogliere il regalo No ma non credo che me lo dai Ehm Eh ti sei messo Ti sei messo davanti a me Ma non c'ho il cecchino Ma non c'ho il cecchino al momento Grazie Ma dov'è il regalo? Ho detto provare il regalo Ma dov'è non c'era Eh fammelo per provare a prendere Ci sono la tenne il giro del mondo Oh pure una corona gratis Per quale il lavoro che avete fatto voi Guarda che sono qua eh Eccolo eccolo Aspetta fammi vedere No ma non me lo dai No lo sapevo che non lo dava Allora ridammelo Me lo dai? No 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 me la dai Ah no me la dai Perché non mi hai afferrato a vedere Prudelè Ah Guarda qui Ho capito come abbiamo fatto ammazzare tutti questi qua Erano scarsissimi vedi Erano scarsissimi ma erano una merda un po' Erano scarsoni maledetti C'era quello che stava restando nel cescuro Ho visto grazie alla nonna che ha spostato Raga Mi sa Di aver scoperto una cosa che ci poteva facilitare Che bastava raccogliere lo stesso regalo tre volte E infatti No Ma io Ma io macchia sono tre ore che E lo potevi farmelo Nooo non penso che te lo conto due volte Più di una volta non penso che te lo conto Noo raccogli te lo conto solo quando lo trovi Non è che lo puoi passare Si ma lo raccogli una volta sola eh No io non c'ho parole E' come il ghiaccio ma che ti diceva raccogli E' come il ghiaccio ma che ti diceva raccogli E' come il ghiaccio No non è come il ghiaccio Perché il ghiaccio No 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 io non c'ho parole Lo raccoglievi una volta sola e te lo piavo solo uno Invece l'ha raccolto anche Ce l'ha contato tutte e due capite? E' un po' diverso Non è la stessa cosa No non c'ho parole Non lo so Non lo so te lo sto dicendo io così Eh vabbè non lo so non l'ho fatto non lo so Ecco le son box Vieni grazie questa cosa Minchia Come grazie Vieni grazie no? Eeeh avete combattuto tutto La carta è rimasta lì a terra in mezzo a uoca Ma tanto Non c'è proprio bisogno eh Però Eh secondo me si Guarda molto E' una partita qua tanto è facile E' difficile però Poi mi sa che sono Cioè non so Oddio sono andato a zip in quello di qua Chi che usa la zip? Nessuno usa la zip dai Eh vabbè come no Ti vedo Ma non 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 ti vedo fps projection forza vabbè se quelli erano scarsi credo anche se erano botte di prima ma che cos'è quel cerchio che si vedrà di stesso? quel cerchio grande che è? è quello lì la prossima 6 squadra perchè abbiamo attivato la torretta i tubi di anteprima dopo quale la prossima 6 squadra poi la 22 kill di squadra sono troppo forte grazie sono troppo forte ragazzi ammettetelo non sono io che vi busto ora mi arriva una scecchionata vado sul muo' un attimo ma per o meno non racconto neanche le sdurpe da quando avevo fatto le cose ma questa cosa che cazzo dobbiamo fare? siamo in rima ormai ah se dovete parare con le mie fuzzie è qua eh ce n'è uno qua almeno ce l'ho fatto macchia ce l'ho fatto ma che cazzo? l'ho sternutito ma che cazzo? ma che sternutito è? ma che sternutito è? e io ho un brutti affortunati che avrei già spazzato le fuzzie ma che sternutito? ma che sternutito? io ho dato una cosa all'entrata ma quello ho preso qua ma buttami ma che cazzo le fuzzie quelle robe lì oh mica andrata però dopo il primo secondo ho visto dio ma che cazzo salti oh grido ma non c'è un assalto a blu tipo una roba del genere ma però non ci si bucano vediamo? c'è anche la sfida da fare che si potevano spattare ma qua? ma dove? ho un regalo l'altro anni dici? ah l'ho finito la sfida dallo a... come si chiama? eeeeh eeeeh come ti chiami? come ti chiami? come ti chiami? come ti chiami? ma chi lo devo dare? a chissio rosa a edo want eeeeh ado mauri forever ado edo 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 di corvio ma cos'è sto rumore che ho scelto? questo rumore è strano era il coso che cadeva mi devo farmi capire che stai fremendo ma è raro trovare questi regali comunque io ho questo siamo un nerd impossato come noi mi chiamava che ve... con soldi avevano tutto a ripale mamma adesso tutti sanno che noi siamo qua eh vabbè bisogna andare a metterla anche alle 20 left quindi non vedo perché vabbè se è un problema in pubblico ma questa lobby qua è facile non è difficile eh sì sì ma infatti ti capisco dammi perchè anche poi ho un'istazio di... soprattutto quando non c'ho più cazzo di console né niente mamma mia andavo in là vedo tutti c'è dagli altri mi chiedo se cavo un botox non mi posso giocare a botte con le ane non mi favo morire non mi favo morire il terpire è ripostato ma tu che sfiga io ho lo simbolo il terpire è ripostato dietro all'assalto l'avevo già massacrato vedi porca patria come cazzo ti permetti ma cosa hai fatto ecco gli altri ma cosa strane no lo potevo colpire eh mi ha secchiato no che si vinta no questo non è è quasi morto no macchia dove cazzo sei no che sfiga ma cazzo ha fatto un'aventura a sto colpo è dietro all'azzo dai raga ma lo sei spito eh l'ho colpito l'ho colpito finalmente non lo so se l'avete visto si è spazzato via no che sfiga che sfiga ma porca puttà la pazzetta sono dietro ce l'ho ma cazzo sei andro qua non riesco a salire ho rovinato fatto è stato male vedo su zupina vedo su zupina quale sta andando via non sono quattro no 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 ma quello che ucciso io la pizzi ma sono cinque squadre ma che cazzo è sono tutti da soli questi è vero sono noi quattro contro uno contro uno contro uno contro uno la pizza che me lo siete potuta voi e qua è qua è qua è qua è qua è qua è ahahah ma da una a moi da me mi sono da parte dei compiti di fuoco io sto male ma sparagli minchia regà per la mese e la macchia vai in figa e ora ma togli uno la safe no no non ti culo si togli uno la minchia ma come no ma toglie uno vai in figa macchia mandami nolan la cazzo te lo mando nolan oh grande nolan ma in figlia la macchina sono costato a lanciare io non ho vita, non c'ho la vita non ce la fai ad uscire io piglio questo eh, ragazzi me la rischio qua sopra un attimo ma cazzo sarà qualche slurping avanzato no c'è una cosa, no non riesco se riesco ma c'è un rift eh niente mi scompossi avanti ma con c'è rift dai perché non va qua arrivo a me ne ho fatto i peloti mi sono in grado vedi tu? vedi tu o no? non so chi cazzare il progetto io ho il progetto a me si è bella slurping ma non puoi prendere no ma qui c'è la mitraglietta addio gli ultimi stanno di pot no dov'è la cosa merda ma dove sono pieni degli avversari non vai andando in serie sono in grado dai ho perso due di vita che sfigaccio forse li vedo eh forse uno non l'ho visto eh li sto andando addosso li sto andando no sono in due merda ma scuola ma sono tutti di staccati mi sa che cazzo sono ma sono assieme quando vuoi ma non sono botte mi diamo pure visto per se comunque scusa ma com'è possibile che noi siamo in quattro se questo qua va il bot dietro non se ne hai neanche accorto non c'ho parole uno era un bot l'altro no è perché ho usato i palloncini era più avanti era non so dove cazzo di qua di là tipo infatti è la sono qua eh è uno eh vedi no mi sa due no è uno perché l'ho vissuto ah è merda oh oggi è fissi regà ho preso è morto 4 contro 1 no toto so per morire no toto bell'albero che sfigaccio c'è chi regà non ci siamo proprio stasera poi c'era in forma se te non ci siamo trogliamo ah trogliamo solo piccone solo piccone ma che vuol dire trogliamo quando volete fare solo piccone è un fenomeno che giocano vi dà già tutte e quattro che cazzo vuol dire eh li puoi trollare no ahhh eh si penso che sarà un fenomeno adesso ci ha ammazzo tutti quanti ma secondo me è un bot incazzato sugli alberi infatti adesso finisce vedrai che tra un po' finisce è morto se vuole un colpo lì non ci sia più a caso te lo giuro sempre così ogni volta è bello che quello lì no quello lì che stava quello lì che abbiamo ucciso adesso c'era il bot dietro che lo stava inseguendo da dietro non se ne era accorto non è che c'era tanto distante era un po' vicino infatti pensavo erano in due ah è vero ah è vero ah è vero ah lo vuoi ah lo vuoi ah lo vuoi non lo vedi non lo vedi non lo vedi così vediamo anche la mia belissia faccia da culo dai raga ma si può porca potete stare qua a aspettare un bot che muore sugli alberi questo dio non è un bot non l'abbiamo già trovato pronto pronto secondo me tutto è ancora un po' l'abbiamo è camperato sto coglione lo dico io se non bot usciva fuori addio ma perché non la fanno finita subito zio chisto ma perché deve camperare in pubblica questo fatto lì dai io capisco uno che avevo voluto guardare io dai ma ma te l'avevo detto che tra un po' moriva da solo ma te l'avevo detto ma te l'avevo detto che era moriva in save da solo ma tre ore c'è un messo da morire tre anni ragazzi dura un po'